Palla verso Borca Valero che si gira con il corpo subito bene su di lui Romagnoli Palla c'è, palla non c'è a Biglia Dentro per Candreva, zona tiro, Candreva Su, suona Ma non mi dico se era una partita E quindi? Non dovevi parlarci, per cos'è sta roba? Perché aveva anche il tempo per ragionare Anche se alla fine non si fida Ho deciso di suicidarlo Andare col sinistra a giro Ancora Sì, pazzesco, che gol hanno fatto? Uomo derby, il Milan, in 11 minuti Pareggia la partita Brava, non sono libero Scusa, un attimo cosa hai detto? Ho detto che voglio farla finita Sì, chiamo dopo Ma a parte che io ce l'avevo creduto Ma guarda, cioè, ma veramente No, è assurdo La metto O detersivo Dai Non sai che sono una persona impressionabile Non dirle queste cose, su Forse è meglio la corte In ogni modo, prima di fare questa cosa Avevo il desiderio di parlarvi ancora una volta Chi è? Ma niente, una pazza Ma è possibile che le becchi tutte te? Non lo so, è una stalker che continua a chiamarmi Sicuramente non so come fai a vivere così Infatti voglio morire Anche io Ah sì, scusa, dicevi? Dicevo che voglio andarmene Perché? Perché a 30 anni vuoi suicidarti? 33 33? C'è gente che è finita in croce a 33 anni Posso capire che... E comunque i motivi sono diversi Per esempio? Hai già detto che ha 33 anni A parte quello Beh, non so A parte quello, come sapete, non ho una donna Beh, allora sì È un problema Ma bastava che me ne parlassi To, sfoglio acqua al telefono Scegli ne una Tenete passo una delle mie Non è che... A me non sembra un motivo valido Ti sembra un cosa da poco? È un motivo più che valido Ho fatto anche un periodo dove non trombavo Avevo cose così Quando camminavo sbattevano tra di loro Mi ricordate Giulia, no? Se è figa, magari sì Quindi io devo averla rimossa Ci conosciamo in discoteca Andiamo a casa, ci spogliamo Ci fiamiamo nel letto Iniziamo a scopare E lei a un certo punto mi fissa E chi altro doveva guardare, scusa? Cioè, guardava a me Non c'ero Non avete capito? Mi fissa tipo così Magari è il suo modo di godere Un sacco di donne che quando stanno per arrivare all'orcasmo fanno Io stavo una volta con una Che urlava come un baritono quasi, no? Con si Non avete capito? Io ero lì che me la scopavo Che lo infilavo su e giù Mentre pensavo alla formazione della Roma dello Scudetto per non venire Antognoli, Cafu, Candelà, Zago, Samuel e il muro E lei lì Si gira, mi fissa con quello sguardo E ad un certo punto mi dice una cosa che non scorderò mai Stai diventando calvo Vabbè, Metto, tu sei calvo Vabbè, oh Adesso, al di là della tipa che gode con la faccia di Nicolas Cage Ti sembra questa una ragione per suicidarti? No Per niente Ti sembra una cosa da poco? Premete Carlotta Ve la ricordate Carlotta? Carlotta Carlotta Proprio no Carlotta, sì, 25 anni, universitaria, vive a Torino Tra l'altro è nata a febbraio Te la ricordi bene Carlotta? Purtroppo bene Oh, siamo solo amici su Facebook Ma va a cagare Ma vero? Ricordo che diceva sempre che le piaceva che la facevo ridere Le piaceva la mia mente, come la pensavo Siamo frequentati un paio di mesi Poi un giorno arriva da me e mi fa Voglio stare insieme a te E così abbiamo fatto Sono passati altri tre mesi Un giorno ero a casa E arriva un messaggio così da nulla Sapete cosa c'era scritto? Gol! Gol! Cazzo gol! Se finisce così ho vinto 700 euro Sì, 700 euro Sì, 700 euro Settecento euro Ragazzi, per favore, sono di cinque, dai Sono innamorata di un altro Ciao Un altro? Cioè, quindi tu sei Cioè, io non ho pregiudizi, nel senso Era il messaggio di Carlotta Che poi come ha fatto a innamorarsi di un altro Che era sempre insieme a me, insieme a noi Infatti è assurdo, eh Comunque a me non sembra un motivo valido per suicidarsi Forse perché il motivo vero È la solitudine Stare solo Essere solo No, Matt Perché Conoscevo uno che diceva Vivere insieme Morire soli Eh E poi l'amore è relativo Fidati di me Ci sono un sacco di problemi molto più gravi in giro Guardati, guardati attorno E tu invece Hai una sicurezza economica Guarda i lati positivi Ma Tu hai un lavoro che ti piace Hai un lavoro che ti piace E che cazzo stiamo dicendo? È un lavoro che ti piace Fortunato Mi hanno licenziato tre mesi fa Fortunato Forse è esagerato Però nel senso Cioè, perché non ce l'hai detto? Ma chi è sta Troia? No, questa qua è assurda Quindi Chiara è una Troia? No Ti pare che faccio vedere le foto di Chiara? È una tua ragazza No, è una che mi sono fatta l'altra sera Quindi non sei più con Chiara? Quindi dicevi che non è più un posto di lavoro Ma che cazzo è? Fatti cazzo è fuori Scusate No Fischia la fine Fischia la fine Mancano i secondi Tira lì Tira lì Tira lì Perché finita Perché finita Fischia Fischia la fine Fischia Sì Fischia Sì Sì cazzo Sì 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 cazzo Adesso di me mi sei sfocato Troia Non ci voglio credere Andre Andre ho vinto Ho vinto 700 euro E qui Tomei sono cose più importanti nella vita Sai invece io Quello tipo dell'altra volta Eh Sì ho partito Sono più importanti Tutte le serie sono importanti per te Io invece la prima volta che vinco In tutta la mia vita Vedi tu Vabbè Non va bene La prossima volta Ecco qui A me E ne so Sarà in bagno No Ascolta lui Dimmi In questo caso E' un suicidio Ma figurati Se vabbè Ho la parte uno scherzo Anzi forse Ci saranno le telecamere Sì però Stavolta l'ha detto Con un po' più di Non so I dettagli C'è nel senso Ho preparato un tavolino Con tutta la roba C'è i quartelli La mette Cor Matt 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 Oddio si è ammazzato Guarda c'è l'ombra Sta penzolando dal soffitto Io lo sapevo È colpa tua Non è vero Smettila Adesso bisogna stare calmi Non ti devi agitare Ok Ma come fai a sapere queste cose? Ho studiato ragioneria Cosa c'è? Fammi fare a me Matt per favore Se sei lì dentro Faccelo capire in qualche modo Ok Ma che cosa? Possiamo agitarci Matt Matt Apri Aprici Matt è colpa sua Non è colpa sua Ma che è colpa Non è la colpa a me È colpa tua Ma la devi solo mettere Tra l'altro ora come la apriamo la porta? Che non c'è neanche la chiave Eh lo so Sei chiuso dentro con la chiave No perché il bagno non ha la chiave No Si è chiuso dentro con la chiave Ecco per Non esistono le chiavi in bagno Ma quindi mi sta dicendo Che se io faccio così La porta non si apre No non voglio guardare Non voglio guardare se è speso Non dirglielo Non dirglielo Io non guardo Guarda 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 è leggera non mi far guardare non mi far guardare per favore è leggera l'art può essere lui non mi far guardare per favore è questa che cazzo se state leggendo queste parole è andato tutto come previsto sapete ho capito che ci sono tre cose fondamentali nella vita la prima è l'amore senza non possiamo vivere ci illudiamo di poterlo fare ma non è mai davvero così con Carlotta finalmente ci credevo credevo che fosse lei credevo che fosse arrivata la persona che potesse guarire le mie ferite e invece ne ha provocate di peggiori Andrea ho sempre saputo che l'uomo di cui si era innamorata Carlotta eri tu lei ingenua credeva a sua volta di aver trovato quello giusto e invece ha trovato te che ti interessa solo di aggiungere un nome alla tua lista nemmeno una parola da parte tua figuriamoci mesi e mesi di sotterfugi bugie e scuse del cazzo quando in realtà bastava semplicemente parlarne la seconda cosa importante sono i soldi non ho mai creduto a chi dice che i soldi non fanno la felicità la fanno e come se la fanno o almeno ti aiutano a trovarla io non ne ho mai avuti eppure non ho esitato un secondo quando tu Luca venisti da me per chiedermi aiuto per pagare l'affitto immagina quando ho scoperto che quei soldi servivano esclusivamente per alimentare il tuo vizio sai forse non è nemmeno tanto il sapere che i miei soldi sono andati in fumo così forse ha fatto più male non avere nemmeno un tuo piccolo gesto per ricambiare il favore quando ti ho detto che avevo perso il lavoro sì perché io ti avevo scritto e sai quanto detesti farlo ma evidentemente avevi di meglio da fare al centro scommesse e qui signori si scopre che la terza cosa importante è l'amicizia 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 quell'ancora di salvezza sulla quale puoi fare affidamento per non sprofondare io sono sempre stato un'ancora per entrambi ma voi lo siete stati per me sì certo forse anche io le mi colpe forse avrei dovuto essere più chiaro ma voi voi avreste capito avevo veramente bisogno della vostra attenzione per una volta e credo di esserci riuscito che dite? no no non vi preoccupate non mi sono ammazzato ho solo bisogno di ricominciare da capo in un nuovo posto e con nuove persone oggi oggi non muore nessuno oggi muore soltanto la nostra amicizia mi sono andata mi sono andata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.